ciao a tutti buonasera stasera parliamo di tvd e parliamo del perché a mio avviso un uso smodato di quelli che vengono chiamati in gergo mock o più genericamente test double è non sempre diciamo è la scelta vincente per tenere i vostri test puliti e manutenibili un piccolo disclaimer questo talk è un talk clone diciamo del talk che ho fatto al symphony dei 2020 italia ovviamente e solamente che lì era un po più vincolato con i limiti di tempo stasera non che lo farò tanto più lungo però magari mi vorrei soffermare un po più su altre cose senza senza correre stavo cercando la splash screen da mettere da riciclare ma non la trovo quindi vi accontentate un attimo della mia faccia prima che condivido lo schermo un'altra piccola cosa prima di iniziare il focus della serata è sostanzialmente sulla metodologia e non è tanto sullo strumento che utilizziamo per andare a fare tvd infatti ho creato degli esempi pratici o qualcosa come sette scenari da mostrarvi e dicevo ho creato degli esempi pratici con i due maggiori tool di tvd scritti per php ossia php unit ovviamente e php spec per ragioni di tempo non vi farò vedere ogni volta i test scritti con un tool e con l'altro poi condivido alla fine della presentazione il link al repository github dove trovate tutto il codice quindi poi se volete sporcarvi un po le mani o semplicemente guardare potrete farlo e anche se non è diciamo la scelta più user friendly probabilmente per voi stasera gli esempi che vi farò vedere li faccio vedere in php spec solamente per una motivazione ossia che ha una sintassi molto più compatta e quindi anche a livello di condivisione dello schermo mi occupa meno spazio però siccome so che non tutti o probabilmente molto pochi di voi hanno familiarità con php spec rispetto a quanta ne abbiano o ne possano avere con php unit al primo esempio mi fermo un attimo per fare un po il punto della situazione per essere sicuri che tutti siamo diciamo allineati su quello che che vi mostrerò col mio schermo però prima di partire volevo un attimo spiegare che cos'è un mock uno stab o comunque in generale un test double praticamente nella scrittura di un test tutto quello che è una dipendenza della classe che stiamo cercando di testare spesso viene in gergo moccato barra stabato barra qualsiasi altra cosa in realtà il termine mock è un termine generico che viene utilizzato molto spesso a sproposito perché in realtà la differenza è sottile ma c'è il termine generico non è mock il termine generico dovrebbe essere test double il mock è un qualcosa un oggetto finto diciamo così sul quale si fanno delle asserzioni ossia mi aspetto che succeda qualcosa che questo qualcosa può essere un'interazione con questa dipendenza quindi con questo collaboratore oppure mi aspetto che il valore di ritorno di questo collaboratore sia fatto in un certo modo uno stab invece è sempre un collaboratore sempre una dipendenza della classe che stiamo testando ma sulla quale noi facciamo delle chiamate fasulle diciamo così tra virgolette e sono degli oggetti che istruiamo rispetto ad un input per il loro valore di ritorno ossia al posto che chiamare la dipendenza reale chiamami questo stab e a fronte di questo metodo fu con i parametri x y z ritornami questa cosa qui questo è molto utile per isolare ovviamente la classe sotto test perché altrimenti immaginatevi di avere un'implementazione reale che poi è quello che io suggerisco e suggerirò nel corso della serata però immaginatevi di avere questa implementazione reale e di dover testare tutti gli execution path della dipendenza o delle dipendenze che avrete rispetto al system under test e quindi anche dover conoscere esattamente qual è l'implementazione interna del collaboratore che avete quindi questo è un po' la definizione di quelli che sono mock e stab esistono anche dei dammi ossia degli oggetti che non hanno comportamento esistono anche le spie eccetera eccetera in realtà racchiudiamoli tutti sotto il termine molto generico e omnicomprensivo di test double ok perché nasce questo talk questo talk nasce perché nel mondo open source specialmente nel mondo open source ho notato la tendenza a prendere per buono ciò che c'è fatto a livello di suite di test e ripeterlo in una maniera come posso dire cioè senza porsi i quesiti del perché certe cose sono fatte in una certa maniera e ovviamente molto spesso la motivazione del perché sono fatte in una certa maniera in determinate casistiche è perché serve che sia fatto in quella maniera lì ma non è detto che ovunque debba essere fatto in un certo modo oggi nel corso della serata vedremo perché applicare l'utilizzo dei mock come dicevo in precedenza in maniera completamente cieca diciamo così e dogmatica sia possa più che sia possa portarci a situazioni comunque non piacevoli allora vi condivido lo schermo ho fatto tutta la intro ma non ho detto chi sono io sono samuel illy questo è il mio nickname don callisto questo è il mio avatar ho già avuto ho già tenuto dei talk qui per il pug romagna quindi forse mi conoscete forse no ma non è questo importante lavoro per malisoft una vita con base macerata ma siamo tutti sviluppatori 100% remoto questo è il nostro blog tecnico aziendale che poi vi condivido adesso non riesco a vabbè ve lo condivido poi alla fine della presentazione dove diciamo ci divertiamo a scrivere un po' di quello che sono i nostri problemi sfide idee quotidiane sono abbastanza attivo su stack overflow quindi se cercate topic quali symphony php o tdd quindi php unit o php spec probabilmente mi troverete a rispondere adesso in realtà molto meno che in passato per ragioni di tempo e niente in madisoft siamo sempre alla ricerca di nuove persone quindi se volete provare a unirvi al team potete contattare me oppure trovate tutti i riferimenti sulle nostre pagine e niente ok direi che ci siamo allora partiamo da qua un secondo che tolgo perfetto partiamo da qua allora per l'esempio di questa sera abbiamo un'altra premessa che non ho fatto non userò slide solamente codice quindi vi chiedo di di seguirmi quanto quanto più possibile allora per l'esempio di questa sera iniziamo da una classe molto semplice che rappresenta una fattura una fattura che può avere tre stati ossia nuova pagata o parzialmente pagata e che nasce con un certo quantitativo di denaro che qui è rappresentato dalla libreria money che è una dipendenza esterna ma non ci interessa per questo esempio e una data di scadenza queste sono le condizioni minime necessarie per far nascere l'oggetto in uno stato in uno stato corretto come vedete la fattura nasce con uno stato di nuova e ha un quantitativo di denaro pagato pari a zero euro per semplicità ottenuto la valuta sempre in euro non è un problema per questo esempio questo non è questa non è una classe anemica bensì è una classe che ha un certo significato di dominio quindi abbiamo una serie di metodi per fare cose in maniera semantica su questo oggetto quindi possiamo chiedere se la fattura è nuova ossia se nessuno ha ancora pagato niente per questa fattura abbiamo dei metodi per poter pagare un certo quantitativo di denaro sulla fattura non concentratevi adesso sul codice perché non è importante abbiamo un metodo per vedere quanti quantità di denaro ancora serve per pagare completamente la fattura altri metodi per fare un check sullo status quindi vedere se la fattura è pagata è parzialmente pagata eccetera eccetera un metodo per vedere se ad una certa data passata in input la fattura sarà o è scaduta un metodo per recuperare la data di scadenza e poi abbiamo dei metodi per che vedremo poi nel diciamo nel corso dei prossimi esempi per evitare che su questa fattura gli interessi possano essere applicati oppure se debbano essere applicati è un metodo per verificare che appunto questi interessi possano essere applicati sulla fattura ok quindi vediamo ok facciamo conto che la prima funzionalità che ci viene chiesta dal dal business è vogliamo sapere vogliamo avere una funzionalità che ci dica ad una certa data qual è l'ammontare delle fatture scadute e quindi quanti soldi ancora i nostri clienti ci devono ok per fare questo ho sostanzialmente scritto un componente che si chiama overdue invoices calculator che come vedete ha un invoice in memory repository che allo stato attuale non ha nessun tipo di implementazione perché ha un solo metodo pubblico in API e non ritorna nulla questo repository è passato come parametro nel costruttore del calculator e poi sostanzialmente abbiamo un metodo pubblico che accetta una data che appunto è la data di scadenza alla quale vogliamo capire quanti soldi ancora ci devono i nostri clienti e tramite repository recuperiamo tutte le fatture presenti con l'array filter andiamo a togliere tutte le fatture che non sono scadute quindi teniamo solo quelle che sono scadute e poi tramite array ad us andiamo a ciclare sostanzialmente con un approccio simil funzionale su tutte le fatture che sono rimaste fuori dal filtro e andiamo ad aggiungere il quantitativo di denaro ancora da pagare di ogni fattura partendo da un contatore pari a zero ok vi ho mostrato prima il codice e adesso vi mostrerò i test fatti con php spec perché c'è questo repository qua sostanzialmente per dividere le responsabilità del recupero dei dati qua dalla responsabilità vera e propria della classe che stiamo andando a testare nel effettuare effettivamente quello che il business ci ha richiesto ok quindi veniamo a php spec questa è una classe di test di php spec un po' di diciamo di consigli per seguire meglio quello che poi sarà il talk allora la funzione let di php spec è la corrispettiva della funzione setup di php unit cosa significa significa che è una particolare funzione che viene eseguita prima di ogni funzione di test che in php spec la funzione di test intendo viene chiamata esempio ok in php unit è semplicemente una funzione di test è la stessa identica cosa quindi questa funzione qui viene richiamata prima di ogni funzione pubblica del del sostanzialmente del file di test con questa funzione stiamo dicendo c'è ci sarà un oggetto di tipo invoice in memory repository che viene passato al costruttore del system under test alcune cose da notare prima chi passa questa cosa qui che ha un type int di questo tipo è php spec stesso in pratica php spec cosa fa crea un test double quelli di cui parlavo prima per voi senza che voi lo facciate esplicitamente e come lo fa prende quello che c'è in type int e crea il test double di questo tipo in php unit avreste dovuto dire create mock bla 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 questa è una sintassi molto più compatta e meno verbosa e quindi è php spec che se ne occupa per voi ok e questo è un primo esito quindi qua abbiamo il test double che viene creato da php spec che viene passato al costruttore del overdue invoices calculator questo this nel contesto di php spec non è la classe stessa bensì è la classe del system under test ossia in questo caso overdue invoices calculator quindi quando io dico this in qualsiasi circostanza this qualcosa sto andando a utilizzare i metodi del system under test questo è molto importante da capire perché altrimenti poi ci si perde quindi this because track with significa il system under test ossia overdue invoices calculator viene costruito con questa dipendenza come fa php spec a capire qual è il system under test è molto semplice perché c'è una corrispondenza uno a uno tra le cartelle di php spec e la struttura directory del vostro codice quindi io qua ho spec che riflette la cartella src e overdue invoices calculator spec a questo suffisso che è una convenzione di php spec che riflette esattamente overdue invoices calculator quindi this in questo contesto fa riferimento a questo oggetto poi vediamo quindi il primo esempio io voglio testare che effettivamente questo calcolatore sommi tutte le fatture scadute ad una certa data e per fare questo mi affido ancora una volta a i test double di php spec quindi qui siamo in un contesto dove stiamo usando tutti i mock sostanzialmente tutti i test double per la stessa per il stesso ragionamento di prima questi vengono creati in maniera trasparente per noi da php spec stesso e l'unica discriminante che vi voglio illustrare è che quando mettiamo in un esempio ossia in una funzione di test in type int lo stesso tipo di parametro con lo stesso nome php spec stesso se abbiamo una funzione let capisce che si tratta dello stesso test double e quindi non dovrà ricrearlo perché vi spiego questo perché sostanzialmente questo è lo stesso oggetto di questo che è appunto lo stesso oggetto con cui viene costruito il sistema under test se io avessi chiamato questa cosa così in maniera differente ovviamente sarei in corso in problemi perché perché questo repository non sarebbe stato lo stesso che era dentro il sistema under test e quindi non essendo lo stesso quando vado a istruire questo repository rispetto a cosa deve tornare nel momento in cui php spec fa girare il codice del vostro sistema under test troverà questa dipendenza che non ha nessun tipo di istruzione su quelli che sono i suoi valori di ritorno perché perché non è riuscito a fare questo chiamiamolo così mapping invece in questa circostanza php spec inietta lo stesso oggetto poi abbiamo tre fatture che sono costruite così quindi sempre nel lessico di php spec abbiamo la possibilità di invocare direttamente il metodo reale diciamo così senza passare per quel method should be called blah blah di php unit quindi anche questa è una sintassi molto meno verbosa e abbiamo la possibilità di dire la prima fattura all'atto della chiamata della verifica del fatto che sia scaduta ad una certa data di richiesta dirà che appunto è scaduta e il il quantitativo di denaro ancora da pagare sarà questo la seconda fattura non sarà scaduta e il quantitativo di denaro ancora da pagare sarà questo e la terza fattura sarà scaduta il quantitativo di denaro da pagare sarà questo perché ho messo tre fatture perché idealmente la funzionalità deve sommare tutte le fatture quindi avendo questa parola chiave diciamo tutte significa che nel mio execution path probabilmente ci sarà un ciclo e quindi io probabilmente avrò bisogno di testare anche il fatto che non venga presa ad esempio solo la prima solo l'ultima solo la fattura mediana ma che siano prese tutte e siano testate tutte qua c'è sempre un po' a diatriba del tipo vabbè ma quante ne devo mettere una, due, cinque, dieci in realtà bisogna sempre testare i casi di rottura della funzione ossia la funzione deve essere valida per zero cosa che qua non ho testato ad esempio per uno del caso base e per due perché non per tre per quattro per cinque per sei perché il caso per tre per quattro per cinque per sei per n è una derivazione del caso per due quindi basta arrivare fino là qua perché ne ho tre perché non solo voglio testare il fatto che le fatture siano testate nel ciclo bensì voglio anche testare il fatto che le fatture non scadute non siano prese in considerazione quindi questo è diciamo la messa in posa del sistema dove io ho spiegato a php spec tramite appunto tutti i mock tutti tutti questi test double che in realtà sono stab in questo caso qual è il loro valore di ritorno a fronte di queste chiamate e poi dico che il repository a fronte della chiamata find all tornerà quelle tre fatture di cui sopra e cosa mi aspetto mi aspetto che quando chiedo il quantitativo di denaro ad una certa data di scadenza questo dovrà essere uguale al quello che è rimasto da pagare della fattura 1 più quello che è rimasto da pagare della fattura 3 quindi ignorando completamente la fattura 2 questo è sostanzialmente quello che dice il test quindi facendo un attimo e mi sono anche dilungato troppo ma ci tenevo e questo è l'unico momento dove lo farò facendo un attimo il corrispettivo diciamo del codice che abbiamo qua abbiamo il find all che abbiamo istruito qua e quindi che ci tornerà questi tre oggetti ok questo is overdue per il filter che abbiamo istruito qua per ogni fattura e questo get amount to pay che abbiamo istruito qua per ogni fattura né più né meno questo amount do non è stato istruito perché ovviamente è un oggetto reale di tipo money quindi questo è quello che significa utilizzare list tab utilizzare i mock utilizzare i test double ossia dover dare spesso un corrispettivo uno a uno tra il codice che state testando e il codice di test vedremo che questo poi potrebbe diventare un problema quindi se io faccio girare i miei test se li faccio girare in php spec funzionano se li faccio girare in php unit funzionano ora io test php unit non ve li ho fatti vedere però sono sostanzialmente i medesimi test che avete visto di là o il medesimo test che avete visto di là però tradotto con php unit che poi troverete sul repository come vedete già questo test qui ha da riga 18 a riga 49 quindi ha 31 righe di codice qua ne abbiamo da 25 a 52 abbiamo una sintassi molto più compatta e comprensibile ovviamente io uso php spec come dicevo prima perché sono abitato a usarlo non ho niente in contrario con php unit anzi vi dico che php unit probabilmente essendo più supportato e più utilizzato spesso è la scelta vincente php spec ha tutta un'altra serie di peculiarità di cui però non vi parlo questa sera perché non è questo lo scopo del talk un'altra unica cosa che vorrei farvi notare è che i test di php unit sono stati scritti e poi lo vedrete se andate sul repository con la libreria di mocking built in di php unit e ne ho fatta anche una versione con prophecy che è un'altra libreria di mock che è quella che è integrata dentro php spec l'ho fatto perché vi farò vedere poi nel corso dei prossimi esempi che i problemi appunto non sono i tool o non è php unit non è php spec non è prophecy non è la libreria di built in la libreria built in di php unit stessa bensì i problemi che possono venire fuori sono più legati alla metodologia ok quindi avevamo questo questo step vediamo come cambia il test che è questo quando utilizziamo un'implementazione reale al posto di un'implementazione con stub o comunque con test double ok questo è lo stesso test identico di prima dove non sto usando test double a parte l'invoice in memory repository perché perché l'invoice in memory repository non ha ancora vi ricordo un'implementazione quindi ho creato una vera invoice una vera fattura questa è scaduta intrinsecamente quindi vedete che io non devo istruire la fattura perché questo è un oggetto reale non devo dirgli che è scaduta semplicemente mi basta dire che la data di richiesta di questo calculator è modificata meno un giorno per dire che questa fattura è già scaduta per dire che questa non è scaduta non ho bisogno di modificare niente se non di dire la request date è esattamente uguale anche alla riscadenza della fattura quindi siamo ancora validi diciamo e la stessa cosa avviene qua sotto quindi sintassi ancora più compatta ma non è questo ovviamente il vantaggio di utilizzare l'implementazione reale però test ancora una volta verdi quindi nessun tipo di modifica ovviamente non ho modificato in alcun modo il sistema under test quindi vedete che abbiamo due modalità differenti di scrivere i nostri test ora facciamo finta che arrivi un'altra richiesta dal business che ci dice fighissimo la funzionalità è ottima gli interessi vengono calcolati in maniera corretta ma adesso vorremmo una piccola modifica e questa piccola modifica deve far sì che l'applicazione degli interessi scusate che ho parlato di interessi ma forse ho fatto confusione perché sono andato avanti torno indietro bellissima la funzionalità funziona è corretta fa quello che deve fare però vorremmo una piccola modifica la modifica sta nel poter applicare degli interessi alle fatture che sono scadute da più di sette giorni ok chiaro quindi sommami tutte le fatture scadute ma quelle che sono scadute da più sette giorni applicagli un 10% in più di interesse ok come come cambia il nostro codice ok il nostro codice è cambiato in questa maniera lo faccio un attimo vedere faccio un attimo vedere così sperando che si capisca poi ve lo faccio vedere anche da schermo intero quindi l'array Redas chiama prima di sommare un metodo che si chiama have to apply interest questo have to apply interest cosa fa verifica sostanzialmente che la data di scadenza della fattura meno la data di richiesta della nostra funzionalità espressa in giorni sia maggiore o uguale a questa costante che vale appunto sette giorni ok quindi se questa differenza è maggiore di sette giorni scusate se non è se non è maggiore di sette giorni non applico nulla quindi continuo a fare quello che facevo prima nel vecchio codice quindi faccio solamente un add se invece la fattura deve essere diciamo deve subire questi interessi vado a applicare l'interesse che in questo caso appunto è questa variabile che vale 10 10% e lo vado ad aggiungere a quello che è insomma la mia la mia somma finale che cosa è cambiato sostanzialmente qua è cambiato che io ho aggiunto un'interazione con la fattura che è questo get due date che nel codice precedente come vi facevo vedere che nel codice precedente non era preso in considerazione questo get due date ok quindi questo come si riflette come si riflette questo su sui miei test se utilizzo dei mock io questa questa nuova interazione non l'ho definita quindi mi aspetto in qualche modo che dovrò definirla ma cosa significa questo lo vediamo a breve ora io ho scritto un nuovo test quello che verifica che l'interesse del 10% su fattore scadute da più di 7 giorni si è applicato quindi ho preso un'unica fattura in questo caso non ho bisogno di rifare cicli contro cicli perché ho già un test che mi copre quella casistica ho detto che la sua due date quindi ho definito questa nuova interazione è uguale alla request date meno 8 giorni quindi mi aspetto che l'ammontare di denaro scaduto sia uguale a quello della fattura scaduta stessa più il 10% come vedete questa interazione è definita che quella nuova pezzo di codice che avevo messo qua è definita solo in questo nuovo esempio infatti se guardiamo la differenza di git vedete che io ho solo un'aggiunta rispetto allo step precedente non ho modificato il precedente test di php spec che questo per me dal mio punto di vista è assolutamente corretto perché qua sto testando il fatto che tutte le fatture scadute siano sommate quindi non mi interessa sapere qual è la data di scadenza perché qua non sto parlando di interessi in questo scenario io non sto esprimendo che ci possono essere o non possono essere degli interessi quindi non ho necessità né avrei intenzione di andare a specificare questa cosa ok perché non non mi interessa contate anche sempre che i test in teoria si scrivono sempre prima quindi non posso andare a prevedere delle cose sulle quali non ho il controllo e ovviamente non devo il controllo in anticipo intendo ovviamente non posso dover pensare di adattare sempre tutti i test e voi direte vabbè perché tutto questo ragionamento perché tutta questa pippa mentale la pippa mentale deriva dal fatto che se io ora lancio i test che siano php spec o che siano php unit in nessuno dei due casi i test sono corretti hanno tutti due un errore e l'errore da cosa deriva vabbè in realtà è esattamente lo stesso leggiamolo qua che è più chiaro anzitutto l'errore è sul test precedente il primo che avevo scritto riga 19 lo vedete qua e voi direte come cavolo il test nuovo funziona il test vecchio che non prende in considerazione questa cosa perché si rompe cioè non si dovrebbe rompere in teoria avete ragione ma il problema dove sta sta nel fatto che io lo stub della ossia il test double della fattura non l'ho definito rispetto a questa nuova interazione che è get due date ok in questo test di get due date non c'è traccia quindi che succede quando il codice raggiunge questo get due date la libreria prova a tornare null perché io non l'ho istruita rispetto a cosa tornare e ovviamente questo rompe il sistema di tipi di tipizzazione di php stesso quindi questa è una rottura a livello di linguaggio perché dice oh guarda che tu mi hai detto che get due date per type type int del sistema under test get due date deve tornarmi una date time interface io siccome tu non mi hai istruito su come fare sto cercando di tornare null ma mi aspetto che invece ciò che sia tornato sia una date time interface la stessa cosa dice qua sotto dice qua sotto php e però cavolo questo questo non mi piace perché ripeto caspita ho una corrispondenza logica veramente uno a uno tra il codice di test e il codice che sto andando a testare quindi ogni modifica per ora poi vedremo che anche più avanti si verificherà ogni modifica al codice non solo mi richiede eventualmente di scrivere in anticipo e questo ovviamente è buona prassi il test ma mi richiede anche di pensare se i test vecchi devono essere modificati ma questo dal mio punto di vista non ha veramente alcun senso ok tanto che tanto che qual è il fix per questa cosa qua ok qual è il fix per questa cosa qua vediamo la diff ecco la diff ci dice guardate è solamente qua ci dice che io sono dovuto ad andare ad aggiungere queste chiamate a invoice 1 invoice 2 e invoice 3 solamente solamente perché altrimenti starei rompendo quello che sostanzialmente il requisito del type del tipo del sistema dei tipi di PHP ma pensateci bene in questo contesto get due date mi interessa come anticipavo prima no ma non solo non mi interessa ma porta anche a chi legge il test ad un carico cognitivo maggiore perché chi legge il test si chiederà perché qua c'è la due date a cosa serve stiamo semplicemente andando a sommare le fatture scadute non basta questo controllo perché c'è questa due date quindi probabilmente lo porterà a dover guardare dentro il codice cosa che il test in realtà essendo documentazione non dovrebbe portare a fare e in più porta lo sviluppatore che dovrà fissare questo test che non necessariamente è chi l'ha scritto a dover pensare a dei valori coerenti tali per cui questo test poi dopo non fallisce e quindi di nuovo perché perché tutto questo carico cognitivo solamente perché stiamo utilizzando in questo caso dei mock e quindi non abbiamo l'implementazione reale vi faccio vedere che con questo fix i test passano quindi se io lancio i test php spec php unit che siano passano entrambi e quindi perché adesso al posto che tornare null a fronte di questa interazione io ho istruito il il test double e gli sto facendo tornare un date time ok cosa è successo invece nell'implementazione dove avevo l'implementazione reale cosa avrò cambiato beh il codice del system under test anche qui non sarà cambiato perché questo è il codice della mia code base ma secondo voi cosa è cambiato rispetto a il test iniziale con questa con questa implementazione reale come vedete niente qua non ho toccato niente questo è il primo test ovviamente ho aggiunto il secondo test che vi mostro che vi mostro che fa né più né meno di quello che dicevamo prima ossia modifico la riscadenza di un invoice reale di una scattura reale il find all mi ritorna solamente quella fattura e mi aspetto che essendo scaduta da più di 7 giorni venga applicato l'interesse del 10% questi test passano o no con l'implementazione reale quindi avete visto che il primo non è modificato passano entrambi perché passano entrambi perché ovviamente una implementazione reale non ho bisogno né qua di portare il concetto di due date perché è incapsulato nella creazione dell'oggetto ed è semanticamente già valido all'interno di questo di questo test perché mi dà già valore per questo test perché mi descrive già il fatto che una fattura sia scaduta o meno ok e sostanzialmente non mi costringe a dover cambiare il test precedente ok quindi questo qui è già un vantaggio per eliminare quella quell'accoppiamento uno a uno tra il codice di test e il codice della vostra codebase ok però allora voi mi direte beh certo ma quanto raro può essere il fatto che rompi il sistema dei tipi di PHP se questa è l'unica situazione vabbè piuttosto prendo l'isolamento dei test double non utilizzo le implementazioni reali e continuo ad utilizzare test double cioè se fosse solamente questo è una cosa facilmente mitigabile ovviamente l'applicazione ovviamente le casistiche non sono solo queste quindi andiamo al prossimo step dove dal dal business arrivano e ci dicono bellissimo tutto funziona come si deve ma abbiamo un'altra piccola modifica da fare e la modifica riguarda la possibilità di stoppare l'applicazione di interessi anche per fatture scadute da più di sette giorni perché abbiamo dei clienti sui quali questa regola di dominio questa regola di business non vogliamo che sia applicata perché sono dei clienti particolari è possibile ovviamente la risposta non può che essere sì anche perché se rispondessimo no temo che ci licenzerebbero in tronco quindi andiamo a vedere come è cambiato il nostro sistema under test in questa funzione che è have to apply interest ho fatto una chiamata ulteriore oltre a quella della diff a quello status che vi mostravo prima ossia l'invoice aveva qua sotto tre metodi uno per dire che gli interessi non possono essere applicati interest can't be applied uno per dire che gli interessi possono essere applicati interest can't be applied e uno per dire ma gli interessi possono essere applicati che torna un booleano metto l'accento su questa cosa vedete che mentre il get you date tornava un date time interface e quindi questo rompeva il sistema dei tipi di php in questo caso solamente a scopo didattico dico che can interest be applied può tornare booleano o null e qualora tornasse null visto che null è il valore base con il quale nasce l'oggetto questo non c'era neanche bisogno però visto che null è lo stato iniziale con il quale nasce l'oggetto dico lascio la parola al client ossia al chiamante e sarà il chiamante a decidere se gli interessi possono essere applicati debbano essere applicati oppure no a fronte di dicevo se gli interessi possono essere applicati oppure no a fronte di un valore di ritorno di tipo null ok quindi ho da bravo modellato questa cosa dicendo se gli interessi se mi torna null gli interessi devono comunque sia essere applicati ok e cosa fa e ovviamente scusatevi non me l'ho fatto vedere ma l'unica modifica è veramente questa perché lasciate perdere questa che era un errore pregresso visto che avevo bisogno di un intero però fidatevi che l'unica modifica è esattamente quella che vi ho descritto ok quindi c'è anche qua una nuova interazione con miei con mie dipendenze e questa interazione è can interest be applied ok quindi da bravo ho scritto in anticipo un test un terzo scenario un terzo esempio di php spec dove dico la fattura è scaduta sì la due date è maggiore di otto giorni sì ma gli interessi non devono essere applicati l'amount to pay è 100 euro quindi mi aspetto che nonostante la fattura che è tornata dal repository sia scaduta da più di sette giorni gli interessi non siano applicati tanto che la quantità di denaro che ci devono i clienti è esattamente pari a quella della fattura senza l'applicazione degli interessi se vediamo la diff di git non abbiamo modificato né il primo esempio né il secondo esempio abbiamo solamente aggiunto un altro esempio un altro test e questo test ha una nuova interazione e voi ora mi direte beh il test a questo punto non fallirà perché perché se prima si rompeva per il sistema di tipi di php perché aveva bisogno di un daytime interface ma lui provava a tornare null e quindi questo null rompeva il sistema dei tipi beh qui può tornare null e quindi sti cavoli nel senso non si romperà non si romperà nulla giusto quindi faccio girare i test php spec non è fallito ma è broken vi spiego adesso cos'è ma è l'equivalente di un fallimento e i test php falliscono allora qui c'è qualcosa che non torna e la cosa che non torna è esattamente questa allora partiamo da un presupposto lo stato di ola che vedete qua ossia lo stato broken di php spec vi sta dicendo il test non è fallito semplicemente io non mi aspettavo che tu facessi questa chiamata sulla fattura infatti la chiamata scusatemi premesso non ve l'ho fatto vedere questo è il test a riga 61 che si rompe quindi è il secondo esempio quello vecchio non si rompe anche il primo perché il primo non raggiunge mai quella parte di codice perché non abbiamo mai fatture scadute da più di sette giorni però se le avessimo avute ci sarebbe rotto anche il primo allora diciamo è solamente il secondo ma anche qua il secondo perché devo andarlo a modificare in ragione di questa cosa voglio dire stavamo trattando i null nella maniera di true e quindi poi sostanzialmente al massimo mi sarei aspettato che gli interessi dovevano essere applicati quindi mi sarei aspettato che questo test funzionasse però mi si sta rompendo e allora cosa mi sta dicendo PHP spec tramite prophecy e prophecy come dicevo è la libreria di mocking quindi per create as double di PHP spec che può essere usata anche in PHP unit cosa ci stai dicendo ci stavi dicendo beh sai cosa io non ti posso dire se questo test è passato o meno perché perché tu mi hai definito queste due interazioni queste tre interazioni eppure io ne ho registrata nel codice un'altra e io a fronte di questa non so cosa fare quindi non ti dico che il test è fallito seppure è fallito ma ti dico fixalo e questo è un monito per 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 l'utente per scusate per per lo sviluppatore lo sviluppatore a questo punto deve dire ok sì sì effettivamente ho dimenticato che c'è anche questa interazione e nel momento in cui l'andrò a definire il test poi dovrà essere o verde o rosso quindi o passare o può essere rotto perché fallisce quello di PHP Unit in realtà ho detto un'imprecisione fallisce quello di PHP Unit dove sto usando prophecy stesso perché il messaggio è lo stesso quando lo vedete di viola semplicemente perché PHP Unit dice questo è un errore perché non ha lo stato ternario passato fallito broken come a PHP Spec ma questo è un dettaglio non ci interessa comunque ci dice la stessa cosa infatti vedete che il metodo è la classe overdoing in vostri scalcolato prophecy test che indica che sto usando prophecy quindi l'errore è lo stesso che ho scritto sopra prophecy ci dice tu mi hai definito tre interazioni questa quarta non so cosa sia fixamela per favore perché però in PHP è fallito ma in realtà è fallito anche in PHP Spec perché non fallisce in PHP Unit normale quindi nell'altro test quello con la libreria built in per creare per creare i mock perché hai test double e qua non fallisce perché perché lui mi torna effettivamente null null è trattato come true e quindi il test va a buon fine ma fate finta che io avessi trattato per regole di business questo null come false vedete che qua i test falliti era un errore su PHP Unit e adesso qua ho due fallimenti ovviamente ovviamente due fallimenti perché non sto rompendo quel sistema no di prima riservo di PHP Spec lo sto rompendo ancora scusatemi di di prophecy lo sto ancora rompendo nel PHP Unit con prophecy ma qui lo sto rompendo perché effettivamente il null viene trattato in maniera differente ok quindi solamente per caso che prima non rompevo i test e tutto questo cosa ci porta ci porta a trovare un altro caso dove usare mock stub e test double in generale è sconveniente e ci dà una corrispondenza logica e un accoppiamento logico uno a uno tra il codice di test e il sistema under test ed è esattamente questo ok quindi sto definendo una nuova interazione non posso farlo devo tornare fixare infatti come come si risolve sta roba qui con i mock come si risolve vi faccio vedere la diff si risolve andando in tutti gli altri esempi di nuovo portandomi un carico cognitivo perché chi legge questa roba qui dice ma perché devo preoccuparmi degli interessi qua sto solamente sommando le fatture scadute non si parla di interessi quindi devo anche pensare quali sono i valori corretti per questo test quando non dovrei pensarlo il test si allunga il codice diventa più difficilmente leggibile l'ho dovuto fare nel primo test e ovviamente nel secondo test facendo questa modifica ovviamente php spec tramite protesi non mi romperà più le scatole non si lamenterà perché mi dirà grande adesso li hai definiti e i test continuano a funzionare e php però vedete quanti piccoli passi devo fare ogni volta che tocco una riga di codice per andare a fixare i test tocco una riga fixo i test tocco una riga fixo i test ma i test mi servono a servire per cercare di capire quando il codice non fa più quello che deve fare quindi quando inserisco una regressione perché ora come ora invece mi ritrovo con dei test che mi fanno fare questa cosa qui un po' un po' inspiegabile cosa succede quando utilizzo le implementazioni reali come è cambiato la come è cambiato il come è cambiato il file di test ok ho aggiunto il nuovo scenario e ho solamente solamente per mia coerenza visto che qua si parla sempre di interessi segnalato che gli interessi possono essere applicati se non l'avessi fatto il test sarebbe passato uguale per effetto del true che abbiamo in ragione del null ritornato quindi non so se avete notato ho commentato questo interest can be applied per farvi vedere che non avrei dovuto modificare il test in alcun modo ok l'ho fatto solamente per coerenza perché dico ok voglio dare esplicitamente notizia di quello che succede diciamo così a chi legge il test voglio dire quali interessi possono essere applicati e questo mi salva eventualmente anche dall'aver cambiato politica sul trattamento del null quindi interessi possono essere applicati non lo so non mi interessa in questa circostanza voglio che siano applicati quindi lo vado a segnalare quindi è solamente una mia premura ma che non ha niente a che vedere con implementazioni reali e versus diciamo mock barra stub eccetera eccetera quindi seconda causa abbiamo possiamo rompere il sistema di tipi o possiamo rompere le interazioni ok prossimo scenario è praticamente abbiamo quasi fatto prossimo scenario è quello dove la richiesta per il cambiamento non arriva dal reparto di business ma arriva dal reparto tecnico nel reparto tecnico ci siamo accorti che caspita bello questo componente ma perché stiamo andando a prendere tutte le fatture tutte le fatture non potremmo direttamente tirar fuori dal repository le fatture che invece sono scadute dai grande questa è una buona idea quindi non mi ricordo se esiste questo si esiste ok con i mock abbiamo creato vabbè anzitutto sono andato a mettere un'implementazione reale per il repository ci servirà poi nel caso delle implementazioni reali quindi qua per i mock non ci serve niente però vedete che ho aggiunto una funzione che si chiama tirami fuori tutte le fatture scadute ad una certa data ok che non fa né più né meno che prendere tutte le fatture questo qui è un invoice in memory repository quindi ce l'ha nel costruttore prende tutte le fatture verifica che siano scadute o meno e torna solo quelle scadute ok come cambia il calculator il calculator cambia semplicemente perché al posto che prendere tutte le fatture sto prendendo solo quelle scadute e voi mi direte caspita perché non ti sbarazzi però di questo controllo certo lo potrei fare non lo potrei fare possiamo dibatterne quello che dico io è cosa deve fare questo componente prende delle fatture e somma solo quelle scadute è un errore tenere qua questo pezzo di codice no sì non lo so dal mio punto di vista no dal mio punto di vista questa è un'ottimizzazione e quindi quando si parla di test non si parla mai di ottimizzazioni perché sono test unitari questi non sono test di performance quindi questa è un'ottimizzazione ma dal mio punto di vista questo pezzo di codice è legittimo che sia qui poi può anche non starci e tutto funziona uguale però dal mio punto di vista è legittimo che sia qui e da questo infatti deriva la mia deduzione successiva ossia è cambiato il comportamento di questo componente? la risposta è no usa un repository per recuperare delle fatture tira via quelle che non sono scadute somma e verifica gli interessi è cambiato rispetto a prima? no a livello comportamentale a livello di business è cambiato? ovviamente no assolutamente ok quindi mi aspetto verosimilmente che i test passino non ho cambiato comportamento anche se sto usando test double eh no e purtroppo siamo siamo di nuovo nello scenario dove non abbiamo definito un'interazione quindi attenzione perché questo find all è cambiato in questo find all with due date before mentre i nostri beneamati test continuano a istruire i repository con il find all quindi di nuovo la libreria si perde mi dice è che devo fare? non lo so quindi di nuovo vedete il problema non è né di php spec né di php unit il problema è della metodologia ma questo per me non è accettabile perché io non ho cambiato il comportamento del mio calculator perché mi si sta rompendo perché sono costretto di nuovo a fare quello che vi sto per mostrare e che ormai avete capito il giochetto cos'è che ho dovuto fare per fixare il test ecco ho dovuto cambiare il find all con il find all with you date before in tutti i test ma perché ho dovuto fare è di nuovo perché ho una corrispondenza logica uno a uno tra codice di test e codice che sto testando ma ribadisco ribadisco non è cambiato il comportamento di questa classe quindi non voglio cambiare i test se cambiasse il comportamento potrei anche capire ma non cambia il comportamento quindi cosa succede senza 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 mock senza mock vi voglio mostrare questo questo caso ho tolto dal test l'unico stab che mi era rimasto l'unico test double l'unico chiamatelo come volete che era l'invoice in memory repository quindi non sto più dicendo che l'oggetto verrà creato con l'invoice in memory report bensì dirò no scusatemi le cose ok di qua questo non dirò più che l'oggetto viene creato con questo stab bensì creerò io l'oggetto con un repository reale che è l'invoice in memory repository quindi l'implementazione reale come vedete qui non si parla di find all perché ho fatto sparire il mock non si parla di find all non si parla di find all at due date non si parla di niente ho semplicemente tolto l'implementazione di prima e l'ho sostituita con l'implementazione reale perché adesso come dicevo l'invoice in memory repository ha l'implementazione reale ok i test a parte questo non hanno nessun tipo di cambiamento e a parte questo non si rompono ma attenzione attenzione nel overdoinvoice calculator sto usando ancora il metodo vecchio questo per farvi vedere che se sostituisco quel metodo nuovo find all with due date before e rilancio i test vedete non li ho toccati i test quindi il comportamento non è cambiato il test non è cambiato di nuovo la corrispondenza logica uno a uno non c'è vi assicuro che questo fa risparmiare un sacco di tempo e porta un carico cognitivo molto basso ok ultimo praticamente esempio contrapposto tra test double e implementazione reale è lo step 6 che vi faccio vedere solamente senza mox così andiamo a concludere più velocemente allora facciamo conto che adesso ho voluto astrarre i repository dandogli un'interfaccia questo è un motivo tecnico di cambiamento no nella parte con i mock questo non è un problema perché stabbando dico al posto che usare l'invoice in memory repo usa invoice repository interface ristruisco gli stub secondo quelli che sono i parametri di ingresso i metodi chiamati i valori di ritorno e sono a posto ma nell'implementazione reale come faccio a istanziare un'interfaccia ovviamente non posso farlo certo potrei utilizzare nel calculator l'invoice in memory repository reale però a questo punto io ho un'interfaccia non voglio fare affidamento su questa implementazione reale perché devo fare affidamento su un qualcosa che in realtà è un'interfaccia quindi in questo caso si può avviare andando a creare un'implementazione reale solo per i test ok l'ho messo sotto questo namespace tab invoice in memory repository dummy interface però in realtà potete metterlo ovunque tranne ovviamente nella vostra cartella del codice di produzione perché non avrebbe senso tenerlo lì però questa è un'implementazione reale adesso lasciate perdere che ricalca esattamente quella della invoice in memory repository e quindi questo simula quello che fa il nostro repository e lo spec quindi il file di test del calculator scusate è cambiato semplicemente perché ho sostituito l'invoice in memory repository con questa dummy interface che ho che ho creato nello stub ok questo era per farvi vedere che anche a fronte di interfaccia si può fare a meno di di mock ok però allora andiamo alla conclusione del talk sembra che i mock do non servono a nulla perché usare sempre le implementazioni reali e soprattutto sembra che le implementazioni reali non abbiano problematiche no? se ci pensate non ho mostrato nessun caso dove le implementazioni reali alla fine della giostra crino problemi no? e quindi per questo vi voglio far vedere uno scenario dove introduco un bug nell'implementazione reale che sto usando nei test quindi qualcuno arriva nell'invoice nella fattura e fa questa modifica e dice la due date non è più maggiore uguale bensì è solo maggiore no? qualcuno ha introdotto questo bug e questo bug se io faccio girare i test si presenta sia in php unit che in php spec riguardiamo solo php spec un attimo per chiarezza si presenta uno quindi dice attenzione ma dove si presenta? si presenta ovviamente nei test dell'invoice che non vi avevo mostrato perché sono triviali ma si presenta anche nell'overdo invoice calculator e qua subito qualcuno può alzare la mano e dire ah ok non stai rispettando l'isolamento perché? perché ti sta fallendo un test che non è assolutamente correlato con la classe overdue invoice calculator quindi non ti dovrebbe fallire e quindi non devi usare un'implementazione reale perché il dogma dei test unitari è di testare un'unità sorpresa però che cos'è un'unità? un'unità nessuno ha mai detto che sia una classe nessuno ha mai detto che sia un metodo un'unità è qualsiasi cosa voi decidiate purtroppo essere un'unità fin tanto che risiede nel vostro sistema se non credete a me e ve lo condividerò alla fine del talk quindi tra pochi minuti dovete chiedere per forza a Martin Fuller se non credete a me va bene Martin Fuller ha sicuramente più credenziali di me e Martin Fuller dice proprio questo dice beh un'unità è qualsiasi cosa voi vogliate che un'unità sia e quindi il concetto di isolamento dei test unitari è isolamento da delle parti del sistema che voi non potete controllare come vedremo poi quindi file system database API rete eccetera eccetera e allora però qua voi direte cavolo però diventa molto difficile programmare così perché a questo punto se uso le implementazioni reali e mi si spacca qualcosa quanti test mi possono fallire a causa di quel bug la risposta è vero la mia contro risposta è fare TDD è una pratica che richiede costanza e richiede di seguire certi dogmi e certi passaggi è come fare un cubo di ruby che è un po' come il refactor quando fate il refactor avete un cubo di ruby con una faccia che che ha il colore corretto ma magari ha gli spigoli che non sono del colore corretto e quindi la faccia è corretta ma se volete andare avanti per concludere il cubo di ruby dovete mettere a posto anche gli spigoli prima o poi è questo uguale quindi c'è una cosa che si chiama in TDD il ciclo di red green ossia fallito passato refactor quindi se voi seguite quegli step ossia ogni riga di codice o diciamo ogni porzione minuscola di codice che modificate rifate girare i test unitari che sono veloci vi accorgerete esattamente di qual è la causa del problema perché qua è molto facile capirla quindi fate conto che io ho esattamente modificato no quindi questo qui era senza bug ok fate conto che io modifico questo pezzo di codice ok la prima cosa che devo fare è questa ok cosa mi fallisce mi falliscono i test dell'invoice e il test dell'overdoing voi si scalcolate lo capirebbe anche un bambino anche facendo un git diff no se io avevo questo qua git non ce l'ho vedete anche un bambino lo capirebbe dov'è 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 il problema oltretutto scusate ovviamente adesso perché sto correggendo il bug che avevo introdotto oltretutto è molto facile capirlo perché vedete che quello che fallisce è l'invoice e l'unica cosa che ho modificato è l'invoice quindi sono di per certo che se mette a posto l'invoice metterò a posto tutto il resto quindi se seguite questo ciclo in maniera pedisse qua bene grandi potete usare l'implementazione reale se fate girare i test a fine giornata avete modificato 30 classi beh forse è un po' più complesso capirlo ovviamente nel caso con gli stub e mock il bug non avrebbe fatto fallere i test perché perché al isoverdo li stiamo no stiamo dando noi un tipo di implementazione adesso ritiro un attimo fuori brevemente prima di concludere no il test di prima no vedete che isoverdo gli dico ritorna true ritorna false quindi se io ve lo dimostro cambio l'implementazione no e gli metto questo maggiore uguale e faccio girare i test si rompono quelli dell'invoice ovviamente perché quelli ci sono e non abbiamo stub lì ma non si rompono quelli del calculator stessa cosa con con php però ripeto secondo me il gioco non vale la candela e quanto più possibile bisogna andare per le implementazioni reali però allora a questo punto e così concludo con questo talk voglio dire che i mocks sono comunque i test double sono in generale inutili a cosa servono ovviamente non sono inutili i casi dove dovete potete usare i test double sono e l'abbiamo visto qua praticamente ricordatevi l'inmemory invoice calculator io non avevo ancora dato un'implementazione reale dell'invoice in memory calculator perché io stavo descrivendo i test dell'overdo invoice calculator quindi ancora non avevo scritto la classe dell'invoice repository scusatemi dell'invoice in memory repository più che del calculator scusatemi stavo scrivendo quelli dei test del calculator non avevo ancora l'implementazione dell'invoice in memory repository e prendevo vantaggio da uno stab questo è corretto fin tanto che non ho fatto l'implementazione nel momento in cui ho fatto l'implementazione dovevo andare a sostituirlo quindi quando state disegnando una classe avete bisogno di un collaboratore che non ha ancora implementazione ottimo potete usare questi stab a patto poi dopo di andarli a rimuovere quando raggiungete nel test il livello tra virgolette di integrazione ossia state andando verso il file system se avete il file system magari davanti ci avete un'interfaccia stabbatela perché perché se andiamo sul file system reale magari non abbiamo i permessi di scrittura magari stiamo scrivendo su arriviamo a saturare il disco e quindi potremmo avere dei test che falliscono randomicamente perché non c'è più spazio potrebbe essere che il file system oggi è in read and write domani diventa read only e noi non vogliamo che i nostri test falliscano perché il file system sul quale girano da questi problemi ad esempio quando abbiamo interazioni col DB quando abbiamo interazioni col DB dobbiamo necessariamente creare degli stab in mezzo perché non vogliamo creare tutta quella serie di fixture di dati che ci fanno girare i test e poi i test devono essere veloci quelli unitari quindi è sicuramente una cosa dove non avventurarci quindi devo usare stub e mock quando abbiamo delle API o comunque quando abbiamo a che fare con la rete se abbiamo delle API non voglio o con la rete in generale non voglio che il mio test con la mia implementazione fallisca perché le API magari è out of service mi inizia a dare dei 404 o degli errori di questo genere o dei 500 io voglio che i miei test siano idempotenti vuol dire che se vi lancio una volta o 100 volte che io sia collegato a internet o non sia collegato a internet o che il servizio sul quale faccio affidamento sia disponibile o non sia disponibile i miei risultati devono essere sempre identici perché è il mio codice che sto testando non quello esterno quindi quando ci sono questi tipi di interazioni uno stub un mock un test double in generale è ottimo quando è anche che potrete utilizzare gli stub quando ad esempio la creazione degli oggetti reali è complessa cioè immaginatevi degli oggetti che hanno la dipendenza di altre dipendenze che hanno altre dipendenze tale per cui costruire l'oggetto così come io facevo per l'invoice che era molto facile nei miei test era veramente triviale farlo ok lo facevo così con una riga magari immaginatevi oggetti che hanno dipendenze indipendenze dipendenze dipendenze così ecco magari allora lì pensateci perché se poi la parte di setup del codice del test diventa immensa poi anche comprendere il test può diventare difficile immaginatevi anche di poterli utilizzare quando state testando legacy code quindi avete o un test del vostro legacy code e quindi avete parti che volete stabbare per evitare di seguire tutti gli execution path perché sono incasinati eccetera o quando le vostre dipendenze della classe magari anche nuova che state creando dipendono dal legacy code tale per cui creare un oggetto reale del legacy code poi può essere complesso da seguire perché magari il legacy code stesso non è testato così come l'invoice da me era testata e a fronte di un bug ho capito esattamente dove è il bug magari per il legacy code questo non è e quindi niente questo è quanto spero di avervi dato una panoramica del perché usare sempre sempre perché la chiave è sempre sempre il test double non è una buona idea spero con questi esempi pratici avervi fatto capire quando quanto complesso è mantenere in sincro e quanto tempo consuma mantenere in sincro il system under test e il codice di test quando c'è questa corrispondenza 1 a 1 e soprattutto nel finale spero di avervi dato degli spunti di riflessione su quando effettivamente utilizzare dei test double e quando invece cercare di utilizzare implementazioni in reale io ho fatto Ale spero di avervi dato rispondenza spero di avervi dato che ho fatto spero di avervi dato l'imitore rispondenza izza